Ciao ragazzi, anche oggi, oggi fortunatamente aiutato da un amico conosciuto qui sulle sponde, beh, due anche oggi, come ormai ultimamente mi viene abbastanza semplice. Vi faccio vedere i due pesci, anzi, se vuoi intanto fargli vedere che così lo vedono da qua, ecco qua, le giriamo così, le vedono, eccole qui, le due carpe appena 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 tirate fuori. Adesso ve le faccio vedere una per una, questa è la prima, prima partenza, anzi direi non proprio la partenza, ma questa è la quarta partenza, comunque, terzo pesce, eccolo qua, e poi l'ultimo, normalmente sempre più bello, eccolo qua, questo è l'ultimo pesce. Oggi, meno male che ho il cameraman. Faccio vedere l'altra parte, anche questa, perché questa merita, e poi dopo andiamo a liberarle subito, perché, anche se vedo che di pancione gigantesche non ne hanno, quindi ancora, dicerei che non sono ancora in frega queste, l'acqua è fredda, quindi, ancora, primi segnali, ma non è ancora completamente in frega. Bene, ragazzi, per il momento è tutto, se prendiamo la cosa di più grosso, ci vediamo. A dopo. Grazie. Grazie.